ciao a tutti e bentornati a crime in comedy il podcast di true crime condotto da due comici e cioè marco e champier e clara campi ciao a tutti ciao a tutti allora oggi andiamo nell'estremo oriente perché si ragazzi è giunto il momento di affrontare un altro caso giapponese e in quanto tale un caso assolutamente fuori di testa non perché i giapponesi siano fuori di testa oddio però perché comunque sono solo i casi fuori di testa che riescono a valicare i confini nazionali del giappone quindi quelli che conosciamo noi oggi ragazzi preparatevi un'atmosfera molto anime molto manga oggi parliamo della real life yandere yuka takaoka ma real life yandere è un termine milanese cioè yandere e yandere che cos'è in milanese yandere io non lo so è quello sottolettano lo yandere figa lo yandere cioè tipo lo sbarbato veramente no no assolutamente no no solo che mi sembrava una roba troppo milanese parlando il dialetto vabbè il milanese e giapponese alla fine si assomigliano comunque prima appunto di entrare in quest'atmosfera molto anime specifico per mia mamma anime non nel senso l'anima delle persone anime sta per animation quindi i cartoni animati in giappone si chiamano anime perché loro accorciano sempre tutti i termini e quindi anime animation comunque prima di iniziare sottolineiamo che questa puntata c'è stata richiesta da un sacco di persone perché sono anni che ci richiedete yuka takaoka praticamente da quando è successo che ce lo chiedete e però in particolare l'ha richiesto la nostra patreon elisa whisper asmr elisa che ci chiede un sacco di puntate devo dire però funziona la sua tecnica perché credo che sia quella cui abbiamo realizzato più richieste sì sì perché chiede anche casi fighi devo dire sì esatto esatto chiede anche casi fighi sì 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 comunque prima di iniziare facciamo anche gli auguri ai nostri fantastici patron anzi alle nostre patreon perché hanno fatto gli anni più o meno in questi giorni bea joxy e luana delle nostre luana ivana tantissimi auguri ragazze tantissimi auguri anche da parte mia lo devi specificare ogni volta allora claret tu tu non capisci lo strazio che è essere me sai che sto iniziando a capirlo ma no no guarda è una cosa insopportabile essere me cioè io devo per forza dirlo perché sennò mi sento in difetto verso io invece no do sempre per scontato che se facciamo gli auguri chiunque di noi due li fa li fa anche per l'altro certo ma è così è così è solo che voi io devo devo allora dico una cosa dico una cosa di una cosa la feltrinelli ci ha mandato un libro sì no che è il secondo libro di di una serie sì io volevo leggerlo sì non riesco non riesco devo prendermi il primo perché non posso leggere il secondo e sono andato a prendere il primo la 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 tipa della libreria mi ha detto oh guarda che puoi leggerlo anche senza prendere il primo no io dentro di eh ho capito perché sono due due storie scollegate io dentro di me io dentro di me dicevo ma questa qui vende così tanti libri che deve far desistere me dal comprarne uno cioè nel senso ma l'editoria italiana eh sì ho capito però alla fine ho dovuto prenderlo e pensa un po' non li sto leggendo nel primo o nel secondo perché non ho tempo quindi benissimo quindi in realtà è uno scam questo che potrebbero fare mando gli libri allora se state scrivendo qualcosa a me una casa editrice mi manda il libro faccio la foto la metto su instagram e non compro altri libri però funziona solo su Marco questo scam sì 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 allora se state facendo una serie di qualcosa mandatemi il secondo numero il terzo io per forza prendere anche i primi due perché sennò non vivo bene mamma mia vabbè ma parlando di vivere bene dobbiamo anche accogliere nella nostra famiglia patreon i nostri nuovi patreon ricordiamo patreon sistema in abbonamento per creators indipendenti come me e Marco quindi i patreon che noi salutiamo a inizio puntata sono quelli che stanno a tutti gli effetti producendo le puntate sono i produttori di crime comedy e quindi salutiamo i nostri nuovi patreon crime stalker cioè ramingo alessia cara e poi è tornato tra noi albi quindi benvenuti bentornati bentornati anche da parte mia eccolo non ce la fa non ce la fa non ce la fa non ce la fa poi poi dobbiamo salutare anche i nostri bristofili che tra l'altro ne dobbiamo recuperare un po' quindi ragazzi se dirò i vostri nomi un po' in fretta vi voglio comunque tanto bene ma è solo perché per fortuna siete tanti e noi vi siamo grati del fatto che siete tanti comunque comunque vi voglio bene anch'io Marco non si può vivere così comunque comunque salutiamo Gabriele Giulia Furlotti Maria Pia Leo 5783 Barbara Whistlestop Cafè Barbara Susi Banana Didi Lilia Vi Carla Bertapelle e Francesca Bernardi grazie mille di esservi uniti alla nostra famiglia patron godetevi le puntate extra perché ricordiamo che patron è un modo appunto per supportarci ad aiutarci a portare avanti questo progetto ma in cambio ottenete anche un sacco di contenuti extra come ad esempio una puntata extra al mese valido per gli abbonamenti i bristofili e crime stalker e per tutti gli abbonamenti quindi anche serial followers avete anche degli overtime cioè io e Marco che continuiamo a parlare dopo ogni puntata ma bando alle ciance adesso è l'ora di iniziare veramente questa assurda storia e quindi Yuka Takaoka la real life Yandere allora io so che tanti si staranno chiedendo ma che cos'è una Yandere quindi prima di spiegare che cos'è la Yandere e tutto il resto che poi ci arriviamo in modo organico quando arriveremo a quel punto della storia devo però spiegarvi il contesto in cui si svolge questa storia perché è fondamentale allora questa è una storia comunque io lo dico prima ho detto che Yandere sembra una parola milanese e volevo dire che le migliori Yandere stanno a Milano e questa la capisce solo che è sul gruppo di Telegram ma infatti fai i super inside jokes comunque si tratta di un caso molto molto recente perché è accaduto nel 2018 e poi ci sono stati degli sviluppi l'anno scorso e si svolge a Tokyo, in Giappone ovviamente, nel mondo degli host club cosa sono gli host, anzi di solito sono hostess club, ci sono gli hostess club e gli host club che cosa sono questi hostess club? per semplificare moltissimo, così almeno vi riusciamo a dipingere un'immagine mentale di questa cosa sono forse una versione soft degli strip club però non funzionano proprio come gli strip club, non ci sono le ragazze che si spogliano se le ragazze sono più che altro adesso qui gli amanti del Giappone si arrabbieranno con me per questo accostamento ma secondo me ci sta secondo me sono quasi un'evoluzione moderna della figura della geisha perché comunque la geisha è l'accompagnatrice cioè non è la prostituta è quella che comunque ti fa compagnia durante le feste sa ballare, sa suonare, sa intrattenere una conversazione interessante e soprattutto sa far sentire gli uomini molto intelligenti ma comunque dovrebbero aprirle anche qui in Italia questi host club dove la gente va a vedere cioè ci sono le ragazze però non si spogliano e in più ti parlano di cose interessanti cioè è proprio la serata da uomo con gli amici che uno... infatti queste cose in oriente funzionano bene dico oriente perché non solo in Giappone anche nella Corea del Sud ci sono un sacco di posti del genere e penso comunque anche in Cina quindi è un format che funziona però vabbè in realtà gli host club ci sono di vari tipi perché ci sono anche quelli con le tipe nude o mezze nude però quelli sono proprio quelli un po' troppo trasgressivi sì 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 meglio andare da una che ti parla della fisica applicata o ti spiega che cazza ha fatto Penheimer non ti parlano della fisica applicata perché per le hostess è molto importante far sentire il cliente più intelligente di loro perché agli uomini piace sentirsi più intelligenti delle donne e quindi loro hanno proprio un business model basato su questo ah porca miseria chissà i parlo giapponesi come sono che c'è la arriva l'idraulico e la ragazza gli dice mi parli delle tubature come lui spiega le dice come intelligente lei è così è così comunque comunque come funzionano questi hostess club praticamente tu vai nell'hostess club e ti chiedono se hai una ragazza di riferimento se è la tua prima volta nel club dici di no allora loro ti fanno accomodare ad un tavolo e faranno iniziano una rotazione di ragazze e tu sceglierai la tua preferita per passare la serata ok ovviamente tu paghi a ore quindi lo scopo delle ragazze è quello di farti restare nel locale più ore possibile ma non è che paghi solo ore paghi anche quello che bevi e non è che paghi solo il tuo drink paghi anche quello della ragazza del locale e la ragazza del locale a volte può dirti delle cose del tipo ah sai ho sempre voluto assaggiare questo vino da 50.000 yen che sarebbe tipo 500 euro e tu glielo prendi esatto è peccato ma infatti è per questo che in Italia non funzionerebbe questo tipo di locale perché manderebbero tutti a fanculo le tipe tranquillamente eh sì 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 se poi ti prendi il privele ti fa anche la lezione di matematica ti sei fissata a questa cosa no devono loro si fingono stupide per fare sentire te intelligente mentre ti spennano eh giù eh sì sì infatti è è geniale poi dopo aver speso 2-3 mila euro in vino ti senti molto intelligente eh eppure tanti lo fanno addirittura gli hostess club sono dei posti dove spesso fanno le riunioni di lavoro però qua mi viene in mente come gli americani adesso un po' si è persa quella cosa però negli anni 70-80 anche 90 i businessmen americani spesso si ritrovavano dopo l'orario d'ufficio nello strip club a parlare comunque di cose finanziarie no? sì e i giapponesi continuano a farlo ancora adesso sta cosa perché? perché devi fare una serata spendendo un centinaio di euro quando ne puoi spendere migliaia senza nessun motivo sì sì infatti senza neanche arrivare a qui ma scusa poi si uomini giapponesi il dollaro dove lo mettono? cioè nel libro non funziona no ma va ma poi che brutta cosa ma mica passi contanti no? tutto sulla carta che hai lasciato quando sei entrato no? giusto così si può continuare a caricarti cose sulla carta poi allora questi non sono posti dove si pratica la prostituzione assolutamente no però sono nella zona a luci rosse di Tokyo questi locali quindi a fianco a questi hostess club spesso ci sono i famosi love hotel che sono la la versione un po' più carina del nostro motel perché spesso sono hanno queste decorazioni molto romantiche con i cuori non tutti eh non tutti però tanti hanno questi look qua sì sì quelli con i cuori sono i più carini poi ci sono proprio quelli coi cazzi vuoi dire sì quelli terra terra qualcuno sì comunque appunto quindi le ragazze le hostess di questi locali non forniscono servizi sessuali però se il cliente vuole accordarsi a parte dopo la fine del turno quelli sono affari loro il locale non è contrario al fatto che le ragazze facciano queste cose però queste cose invece sì che si gestiscono in contanti e per i fatti loro perché comunque tecnicamente è comunque legale la prostituzione in Giappone se non sbaglio infatti però il locale ovviamente può dire nel tempo libero se ragazze fanno quello che vogliono noi non siamo responsabili eccetera esattamente ma ti dirò di più alcuni locali pare che addirittura suggeriscano alle ragazze di stringere rapporti un po' più intimi con i clienti perché se ti ricordi quando ti stavo spiegando come funziona Lost Club ho iniziato dicendo che ti chiedono se tu vuoi parlare con una ragazza specifica o se devi scegliere la tua ragazza perché poi nel momento in cui tu scegli la ragazza ogni volta che vai in quel locale ti mettono quella perché devi essere monogamo sì giusto però puoi frequentare tanti locali e averne una diversa in ogni locale ovviamente certo ma quindi questi Lost Club funzionano come funziona mia mamma cioè nel senso che se tu vai a mangiare da mia mamma e le dici che ti piace quello che ti ha fatto che sono tipo la carne con i fagiolini lei ti farà la carne con i fagiolini vita naturale cioè tutte le volte che tu arrivi a qualsiasi ora così ti farà trovare un baslotto di fagiolini perché tu hai detto che erano buoni è vero funzionano così gli Lost Club funzionano esattamente così però attenzione qual è la cosa ancora più particolare di tutto questo ambiente un po' scuro della Tokyo luci rosse che non ci sono solo gli Hostess Club ci sono anche gli Lost Club che quindi sono uguali a quelli che vi ho descritto finora però non ci sono ragazze che lavorano all'interno bensì ragazzi e cosa ancora più strana secondo me la clientela è a stragrande maggioranza femminile perché dico più strana perché comunque questo tipo di cose almeno in Italia in Europa ma pure negli Stati Uniti tendenzialmente sono cose che fanno gli uomini quindi magari in quello dove non ci sono le ragazze ci sono i ragazzi vanno comunque gli uomini gay però è più difficile è più raro che una donna vada a cercare queste cose invece in Giappone è un hobby accettato anche per le donne anche se è inutile dirlo ci sono molti più Hostess Club che Host Club questo è ovvio sì però a me tutta questa mercificazione del corpo maschile un po' mi dà fastidio solo di quella maschile solo di quella maschile ovvio 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 eh ma non è del corpo è proprio dell'anima che secondo me è molto peggio perché devi cioè comunque devi prendere in giro la gente come tu lo che però non è neanche una presa in giro perché chi va in questi locali sa perfettamente che cosa sta facendo no? certo cioè c'è la sospensione dell'incredulità esatto esatto quindi tu vai perché vuoi che un bellissimo ragazzo che normalmente non ti cagherebbe manco di striscio ti fa sentire la donna più bella del mondo per quelle tre ore che ti costano come due settimane di stipendio però va bene se è quello di cui tu hai bisogno va bene cosa ti devo dire e quindi appunto ci sono anche gli host club per donne che col fatto che appunto ce ne sono di meno tendenzialmente sono molto più raffinati di quelli degli uomini tipo stavo anche dicendo ci sono alcuni club per uomini con le ragazze nude o quasi ci sono cose un po' così dove ce ne sono alcuni dove hai il permesso di toccare le ragazze addirittura che normalmente non ce l'hai mentre invece quelle per gli host club che quindi sono pensati per una clientela femminile queste cose sono molto più rare sono posti un po' più fighetti insomma i ragazzi maschi che lavorano in questi locali a me lasciano perplessa proprio per una questione che io non li trovo per nulla attraenti scusatemi addirittura c'è il più famoso di tutti che si chiama Roland mi sembra se cercate Roland host lo trovate lui è famosissimo è diventato un influencer che sembra tipo Lady Oscar dopo un incidente stradale e io dico ma perché nel senso che io non lo trovo attraente poi ragazzi i gusti sono gusti ok però ha questi boccoli biondi lunghi poi in realtà non sempre perché a volte l'ho visto anche coi capelli neri perché cambia look molto spesso e hanno un aspetto estremamente effemminato e cui uso volontariamente la parola effemminato no proprio che insomma cioè io da donna etero non sento nessun tipo di pulsione sessuale per questo tipo di ragazzi quindi mi lascio ma perché eh ma perché tu hai dei gusti cioè nel senso dei gusti ben definiti l'abbiamo capito tutti no no a te piacciono chi ha i baffi eh chi chi ha i baffi chi ha un determinato tipo di fisico che è molto mascolino no cioè quindi muscoloso con le braccia grosse eccetera però ci sono anche cioè nel senso ci sono quelle a cui piace invece l'uomo un po' più effebico cioè quindi più magro più femminile eccetera a me ad esempio piacciono le ragazze più eh un po' più maschili nel senso preferisco le ragazze con i capelli corti ma anche rasati così che hanno non dico dei tratti maschi cioè non dico i baffi i bicipiti eccetera però che non siano molto femminili cioè a me ad esempio le ragazze molto femminili eh non mi attraggono tanto dipende è una questione penso penso di gusti cioè nel senso certo tu giustamente magari non li trovi attraenti però magari a tante ragazze a tante donne così possono piacere può piacere quel tipo di ma assolutamente però non è che c'è ci sono diverse tipologie di uomo tra cui scegliere in questi ostri sono tutti quella tipologia lì che secondo me è quel tipo di di ragazzo che tu trovi attraente quando sei un adolescente infatti sembrano tutti usciti dalle boy band asiatiche comunque questi ragazzi qui hanno anche spesso i capelli colorati strani sempre molto stile anime stile manga hanno questi look un po' particolari e poi addirittura alcuni si truccano alcuni quasi tutti quasi tutti perché alcuni vabbè si fanno il trucco leggero che non è stranissimo cioè comunque gli uomini che sono in questo tipo di ambiente lavorativo ci sta che si truccano però quando un uomo si trucca di solito è fondotinta e cipriopacizzante invece qua si truccano proprio con rossetto e cose di questo tipo non lo so cose strane che non capisco secondo me appunto è una questione di chi ha magari un po' di fetish per gli anime perché secondo me a questo tipo di persone potrebbe piacere il locale comunque comunque come dicevo gli host club per le donne comunque di base funzionano come quelli femminili quindi anche lì quando la ragazza entra per la prima volta nell'host club le fanno scegliere il suo host preferito e una volta che lo sceglie sarà per sempre accompagnata a questo host che tra l'altro si segnerà tutte le cose che lei gli dice quindi tante che magari hanno una relazione col solito uomo che non ti ascolta vanno a spendere un pacco di soldi lì perché il tizio si ricorda tutto quello che gli hai detto la settimana prima e ti fa le domande e si mostra interessato in realtà non gliene frega un cazzo di te però si mostra interessato sembra cioè ti vende questa finzione l'illusione e beh certo esatto ora secondo te Marco ma anche perché penso che se uno andasse in uno di questi club sia uomo che donna e trovasse un corrispettivo della moglie o del marito che ti tratta male ogni volta con cazzo quello che dici e quelle cose lì penso che insomma non è che avrebbero tutto questo successo cioè dovrebbe essere una roba ovviamente da sogno perché sennò nessuno pagherebbe per le cose reali ma infatti è proprio quello noi ce l'abbiamo a casa sì è proprio quello loro ti vendono il sogno e forse anche per questo hanno questi look forse un po' eccessivi perché poi nella vita di tutti i giorni non vedi i ragazzi conciati come se fossero usciti da un manga no? no certo ok comunque adesso che vi ho fatto questa introduzione quindi avete ben chiaro l'ambiente in cui si svolgerà questa folle folle storia parliamo della nostra protagonista Yuka Takaoka lei nasce il 28 gennaio 1998 in Cina perché sua madre è cinese suo padre invece come possiamo intuire dal cognome è giapponese quando Yuka ha due anni tutta la famiglia si trasferisce in Giappone dal padre che ci avrà avuto un lavoro in Giappone non lo so Yuka crescendo è la classica ragazzina un po' nerd a cui piacciono molto appunto gli anime i manga è molto scusa non è nerd è otaku allora otaku in giapponese è una parola estremamente offensiva quindi lo so che gli italiani in realtà è passata anche in Italia sta cosa però c'è stato il periodo che ci si chiama ci si autodefiniva otaku che vuol dire nerd in giapponese però in giapponese ha una valenza estremamente estremamente negativa quindi in realtà anche quello che effettivamente otaku non si autodefinisce otaku quindi con questa battuta ci si è giocato tutti gli ascoltatori giapponesi vabbè ma quelli ce li eravamo giocati già da tempo comunque lei appunto ha queste passioni qui quando ha 19 anni lei è al primo anno di università e dice ma io non ho voglia di fare l'università io voglio guadagnare subito e farmi subito la mia vita quindi lei molla la scuola e trova lavoro ovviamente come hostess in un hostess club perché lei comunque è una ragazza molto giovane molto carina lei ha questi occhi molto grossi che a quanto pare piacciono e poi lei aveva una passione non solo per gli anime e i manga ma anche proprio per il cosplay quindi c'ha un sacco di vestitini adatti per fare il cosplay lei ama molto vestirsi da gattina queste cose qua che funzionano molto bene e lei fa carriera all'interno del suo hostess club perché nel giro di poco viene promossa da hostess a manager che cosa fa? da hostess a pilota allora vabbè ovviamente i manager come intuibile sono quelli che si occupano di gestire le ragazze e si occupano di controllare la rotazione dei tavoli perché allora io vi ho dato un'infarinatura di questi host club tra l'altro basata sulle ricerche che ho fatto online perché io sono stata più volte in Giappone è mai stata in uno host club però se ci torno vi prometto che ci vado e vi documento tutto sì dicono tutte così no ascolta ma a me arriva uno che ti sto pagando per parlare con me e poi cioè devo pure pagarti da bere io a te cioè no mi fai io non sto capendo sta cosa qui che io lo sto facendo gratis ma come ma no vabbè vabbè no però aspetta ho detto mentre stavamo parlando mi è venuto in mente che effettivamente molti host club non permettono agli stranieri di entrare quindi però ci sono quelli per i turisti quindi volendo se uno va in vacanza in Giappone lo trova ma questo proprio per una questione linguistica non è una cosa razzista è che lì si va per fare conversazione se tu non parli bene il giapponese difficilmente i ragazzi parlano inglese o altre lingue mentre invece quelli per stranieri assumono apposta ragazzi che parlino bene inglese comunque lei fa il manager e quindi gestisce questa cosa che dice che stavo dicendo la rotazione perché v'ho spiegato un pochino come sono gli host club ma non ho spiegato tutte le dinamiche anche perché non ce le ho chiarissime quindi non vorrei dire stupidate però tu quando arrivi ad un locale e chiedi voglio stare con l'host Marco solo che qual è il problema che Marco è già occupato con un'altra cliente che cosa fa il locale manda via la seconda no dice ah Marco è occupato per un attimo però se vuole la facciamo già accomodare e inizia il tempo perché comunque tu paghi ogni ora ok e dopo un po' la manager va a prendere Marco che sta parlando con la prima cliente e gli dice adesso vai mezz'oretta dall'altra cliente e intanto poi la manager tiene buona la prima cliente cercando di convincerla a restare e aspettare che Marco torni da lei quindi comunque c'è da gestire un sacco di cose e Yuka a quanto pare era bravissima a fare sta cosa sì sì io per Marco mi sembra che si preannunci una serata un po' troppo diciamo faticosa a due clienti è faticoso c'è gente che ne ha 5 o 6 in contemporanea buon per loro buon per loro per me già una già una e poi devi ricordarti tutto quello che ti ha detto ogni singola ragazza poi mi dici ci vediamo al Love Hotel sulle 11 no che poi per andare al Love Hotel devi andare dopo la chiusura del locale quindi alle 2 vai infatti che vita di merda comunque essendo un caso giapponese questa cosa l'abbiamo detta in tutti gli altri casi giapponesi non sappiamo in realtà tantissimo sulla vita personale di Yuka la nostra protagonista sappiamo che lei a quanto pare è una ragazza molto timida che fa anche abbastanza fatica a legare con le altre persone lei è molto introversa come ragazza però allo stesso tempo ama anche l'attenzione quindi lei è molto attiva sui social dove posta le foto di lei in cosplay e poi anche i soliti video dove canticchia oppure canta in playback i classici video che si facevano nel 2018 insomma una cosa che posta spesso sono le foto di lei vestita da gattino perché la cosa della gattina è fondamentale e lei allora poi passa un inglese la prende la sbatte nella pattumiera e abbiamo fatto un crossover meraviglioso sì sì no vabbè lei sui social allora non è definibile come un influencer lei non guadagna dai social non ha un seguito così importante però comunque un suo seguito ce l'ha anche perché comunque piace molto perché lei magari non è la ragazza più bella del mondo però ha degli atteggiamenti molto carini molto da ragazzina piccola molto infantili che hai che cioè possono piacere molto ai giapponesi pervertiti cioè non ai giapponesi in generale no no certo no capito quella cosa della ragazza un po' infantile che ad alcuni piace ecco lei ci marciava molto comunque Yuka una sera è a lavorare nel suo locale a fare la manager a spostare le hostess da un tavolo all'altro quando resta colpita da un ragazzo che è lì come cliente ma non è lì come cliente da solo è insieme ad altri ragazzi e sono tutti molto giovani e molto belli e molto curati perché loro lavorano in un host club e nel loro giorno libero hanno deciso di spendere i loro soldi andando in un hostess club a me sta roba mi fa esplodere il cervello cioè tu di lavoro devi raggirare le persone facendoti costringendole a ordinarti da bere drink con un prezzo insensato e poi quando sei libero tu vai a farti prendere in giro tu eh sì però quello che dicevamo prima nel senso che non è una cosa diciamo che non si sa cioè lo sai evidentemente loro vanno lì a passare una una serata easy perché non devi far fatica a conoscere non devi magari il senso è quello non c'è niente di impegnativo nel senso perché non è che vai lì che poi la devi richiamare il giorno dopo cosa così quindi sì uno dice c'è fai quel lavoro lì vai a sbagarti da un'altra parte vai al karaoke e però ho capito Clara però anch'io mi ascolto i podcast mentre lavo i piatti mentre sono in macchina anch'io però non è proprio la stessa cosa non è lo so non è proprio la stessa cosa però più o meno più o meno ok però no cioè nel senso secondo me c'ha un senso sì uno dice vabbè cioè se fai quel lavoro lì vai a fare altro se sono in tempo libero vai a fare altro però essere coccolati spendendo l'ira di Dio ci sono dei bei ragazzi che potrebbero farsi coccolare a gratis no sì però vabbè comunque nota questo gruppo di ragazzi molto belli per per quegli standard e in particolare ne nota uno ne nota uno che attenzione è carino pure secondo me quindi raramente succede invece questo devo dire che è carino e allora lo aggiunge su Instagram inizia a seguirlo su Instagram a mettergli mi piace e inizia anche a scrivergli ogni tanto dei messaggi privati in questi messaggi privati lui dice sì mi farebbe molto piacere conoscerti perché non vieni al mio locale eh sì no vieni tu al mio no no lei dice sì sì vengo io al tuo perché sennò lei fa la manager non c'ha tempo di passare tempo con lui questo ragazzo si chiama Luna Kun che si scrive Luna perché sapete in giapponese la L e la R sono lo stesso suono che è una via di mezzo tra la nostra L e R lo chiameremo Luna per il resto della puntata Kun è l'onorifico che si dà ai ragazzi giovani Luna Kun quindi il signorino Luna diremmo noi che però suona molto posh invece lì è normale allora parliamo un secondo di questo ragazzo anche di lui non abbiamo tantissimi dettagli ma sappiamo che ha avuto una vita molto molto difficile lui è cresciuto in orfanatrofio lui aveva un fratello e una sorella e poi sono sono stati tutti divisi ognuno in un orfanatrofio diverso c'è una roba veramente strappalacrime anche questa che sembra uscita da un manga di quelli strappalacrime ma infatti sembra l'inizio dell'uomo tigre vero sì sì ma tutta sta storia a me sembra che sto guardando un anime ti giuro tutta sta storia comunque lui non finisce le superiori perché poi vabbè immaginiamoci anche che traumi ha avuto sto bambino a crescere così e sin da ragazzino si mette a lavorare occasionalmente come muratore in più una volta che lo buttano fuori dall'orfanatrofio lui non ha neanche un posto dove stare quindi si ritroverà proprio a vivere come un senza tetto una roba super tragica super tragica però lui sa di essere carino lui lo sa di essere un bel ragazzo poi dico io facendo il muratore magari ha anche dei muscoli un po' definiti non so e allora a un certo punto lui scopre l'esistenza di questi host club e ci fa un pensierino dice ma quasi quasi ma io perché devo dormire sotto alle fermate dell'autobus e ogni tanto spaccarmi la schiena come muratore per avere solo i soldi per mangiare è giunta l'ora di sfruttare l'unica non sfiga che ho avuto nella mia vita cioè di essere un bel ragazzo e quando viene a sapere da qualcuno con cui parla che molti host club offrono addirittura l'alloggio per comodità lui dice ok questa va fatta e va a fare i provini nei locali e viene assunto al club fusion by youth a me i nomi dei club mi fanno morire da ridere perché sono tipo tutti in inglese con parole che non devono stare una vicino all'altra perché fusion by youth vuol dire fusione da parte della gioventù quindi no è però molto esotico anche perché in Giappone sanno poco l'inglese cioè stranamente tutti tutti hanno una conoscenza estremamente superficiale però pochi lo sanno parlare sì sì ma in che città siamo? Tokyo ok sì 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 nel Red District di Tokyo allora lui viene assunto in questo club ed è felicissimo cacchio ci ha gli andato pure l'appartamento meglio di così e in più lui se la cava bene da subito perché forse avendo avuto questa vita così difficile aveva anche un po' imparato ad usare il suo fascino per ottenere un po' quello che volevano per una questione di necessità e quindi questa cosa lui riesce a traslarla molto molto bene nell'ambiente del club al punto che raggiunge il numero 4 della classifica degli host del locale ora Marco lo vedo confuso come è giusto che sia c'è la allora ogni locale ha la sua classifica dell'host più popolare perché le tipe nuove che vanno lì vogliono tutte l'host più popolare quindi pagano più soldi per avere meno tempo con l'host però è quello figo e addirittura un sacco di locali hanno proprio gli schermi sui muri gli schermi quelli enormi con le classifiche tutte animate sai come fanno nei programmi giapponesi no? sì 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 e quindi c'è numero uno Roland numero due Ken numero tre e il nostro Luna era riuscito ad arrivare quarto che quindi non è male porca miseria è tutto ridicolissimo sì 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 ma anche questa qui mi sembra una roba un po' da anime sì ma anche da videogioco non so sì 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 no però sì da sì esatto ma perché guarda quando guardiamo gli anime è come quando guardiamo le serie americane ambientate nelle scuole superiore tu dici ma sì ma in realtà non è così nella vita vera e invece è così è uguale ok quindi vabbè comunque una sera si presenta al Fusion by Youth una nuova cliente Yuka Yuka arriva e dicono ha già un host con cui da cui andare lei fa sì sì certo Luna Kun e allora la fanno accomodare ad un tavolo di Luna quando lui finisce con la cliente prima arriva al nuovo tavolo ovviamente la riconosce subito dice ah ma tu sei la ragazza che fai cosplay che bello che sei venuta non vedevo l'ora di parlare con te sono proprio contento allora che vino prendiamo eh sì però c'è un c'è un c'è un po' la bocca asciutta mi serve una roba da almeno un 50.000 yen esatto ma poi insomma dai ci siamo ci siamo già sentiti online questo è il nostro primo incontro dal vivo festeggiamo champagne il più costoso offro io per tutti sì offre lei offro io per tutti sì beh certo ovvio ovvio comunque appunto tra l'altro stavo pensando ma sti host club con quelli più famosi ma sono un po' tipo il giro pizza dei degli host no cioè sti host vanno un po' qua vanno una lasciano una fettina di qua una fettina di là come il giro pizza la fregatura è che è giro pizza solo la prima volta che vai perché poi una volta che scrivono il tuo nome accanto a quello non c'è più verso non lo puoi più cambiare no forse boh se paghi delle penali te lo fanno cambiare sicuramente però di base c'hai quello fisso lì e babbo vabbè comunque i due passano una bellissima serata Yuka prende due bottiglie quindi non i drink la bottiglia che chi frequenta le discoteche può immaginare quanto può costare prendere comunque una bottiglia in una situazione del genere ecco però Yuka si trova benissimo e allora torna anche altre volte nel locale e presto si ritrova ad essere una cliente fissa lei però sa benissimo come funzionano questi locali perché lei ci lavora non è che si illude però dice allora ma in realtà questo ragazzo piace veramente e io lo so che anch'io gli piaccio veramente perché comunque sì lui sta facendo il suo lavoro però lo vedo che con me è un po' diverso magari se io lo aiuto con la sua carriera poi lui aprirà gli occhi e vedrà che io non sono una semplice cliente sono la sua futura moglie ovvio anche questo è tutto molto anime e allora spiega questo piano a Luna dice guarda io ho delle competenze da manager e se tu segui le mie dritte presto non sarai più il quarto più popolare presto sarai il numero uno poi fai conto che lui quarto è un'ottima posizione però era molto aveva un bel distacco dal numero uno cioè lui era ancora quasi un novellino no? certo quarto è un'ottima posizione ma uno è ancora meglio eh sì è ovvio eh sì e quindi lui dice va bene facciamo come dici tu allora lei ovviamente fa ricorso alle sue abilità da manager ma anche al suo portafoglio perché comunque come funziona per farli salire in classifica la classifica funziona in base a quanto le clienti spendono su di te una roba terribile e quindi lei inizia a spendere un po' troppo cioè ad esempio una sera spende l'equivalente di 6.000 euro in una sera in una sera ok quindi insomma e quella sera lì però Marco c'era un motivo preciso perché lei aveva speso quasi 6.000 euro per per l'una perché chi lost che guadagna di più quella sera alla fine della serata fa il concerto di chiusura del locale nel senso loro hanno i conteggi di chi ha incassato di più quella sera lì dove Yuke ha speso 6.000 dollari chiaramente poi lui avrà avuto anche altri clienti e cose lui è quello che a fine serata sale sul palco e fa un vero e proprio concerto stile boy band perché è quello che ha guadagnato di più a fine serata fa il concerto a fine serata che si fa in tutti i locali a prassi ma è proprio un concerto con le luci e tutto ma quindi deve cantare tipo almeno 10 canzoni cioè perché no no una la canzone di chiusura del locale però ci sono le tipe è come un concerto proprio è un idol sai gli idol che sono le pop star giapponesi così ma scusa ma lei adesso con 6.000 euro sì vabbè sono 60.000 bisogna aggiungere due zeri per capire quanto 600.000 yen ok lei con 600.000 yen non riusciva a portarsene in un love hotel farselo tutta la no rimanere incinta e incastrarlo così cioè secondo me sai che secondo me è molto è difficile incastrare giapponesi così sì e su questo non lo so stavo rifiutendo perché chiudiamo la puntata li fanno anche lì matrimoni riparatori però sono meno fiscali sulle popole comunque hai ragione però no lei vuole il vero amore poi lei lo vuole aiutare veramente ok e infatti riesce a fargli scalare la classifica al che Luna è molto grato a Yuka e tra l'altro comunque a lui lei piace lei gli sta simpatica ok è una delle sue clienti preferite diciamo e quindi dopo un po' i due iniziano a sentirsi proprio anche al di fuori dell'ambiente del locale iniziano anche a vedersi al di fuori dell'ambiente del locale e come dicevo prima questa cosa non è strana perché oddio prima ho detto sul fatto che se qualcuno volesse fare un extra in un love hotel come dicevi tu si possono accordare ma in realtà il locale spinge anche gli host a creare comunque un rapporto umano con le clienti per fare in modo che continuino a tornare nel tuo locale quindi prenderle in giro anche al di fuori degli orari d'ufficio insomma ok si e vabbè e niente quindi Yuka questa cosa la sa però lei sa anche che tra di loro sta sbocciando qualcosa di diverso e allora vale la pena battere il ferro finché è caldo perché poi presto Luna avrebbe aperto gli occhi e si sarebbe reso conto che loro due erano fatti per stare insieme il problema è che in poche settimane Yuka ha finito tutti i risparmi strano tra l'altro ma com'è possibile la cosa più triste è che erano anche risparmi molto ingenti lei aveva messo da parte tanti soldi lavorando nel club e ora li aveva fatti fuori tutti si ritrova senza soldi però ha una grande soddisfazione perché Marco in queste poche settimane Luna è arrivato al numero uno quindi vedi ragazzi se vi impegnate potete raggiungere i vostri obiettivi allora se vi impegnate avete un sacco di soldi potete scalare qualsiasi classifica potete far scalare le classifiche potete far scalare le classifiche però appunto Yuka è molto orgogliosa di questa cosa perché sa che grazie ai suoi consigli e grazie anche ai suoi soldi ne è molto orgogliosa però capisci anche che ora che è senza soldi deve trovarsi un secondo lavoro cioè non devi modificare tutto quello che stai facendo no devi trovare un secondo lavoro che paghi molto molto bene e che non abbia orari troppo pressanti quindi lei essendo una bella ragazza comunque sicuramente che riscuoteva successo in alcune tipologie di uomo si fa assumere in un'agenzia di delivery health quindi salute a domicilio eh sì infatti perché i giapponesi usano le parole inglese a cazzo è un'agenzia di escort ah ok però ti portano la salute a casa certo potevano chiamarlo happy ending a domicilio delivery happy ending e infatti quello è quello è lei viene presa e inizia a lavorare così quindi in sostanza è un'agenzia di escort ma proprio nel senso di prostituzione cioè non nel senso che ti accompagno per la serata quello già erano cose da fare nei locali no proprio vai a casa scopi e vai via e yuka odia odia prostituirsi è una cosa che odia sì no 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 niente stavo facendo una battuta brutta ma ormai ormai odia scoppare preferisce spolverare era brutta veramente era brutta 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 no comunque lei odia odia fare sesso con altri uomini perché lei non vuole che altri uomini tocchino il suo corpo perché il suo corpo è solo per l'una solo che per avere l'una deve vendere il suo corpo questo è come funziona sì deve guardare il mondo da un oblo l'una no ma allora lei si sacrifica per il suo grande amore perché tanto lo sa che è solo una cosa temporanea no lei deve solamente aspettare che l'una diventi abbastanza ricco da lasciare il suo lavoro e sposarsi con lei è un piano infallibile Marco beh sì soprattutto se lo alimenta solo lei no aveva anche altri clienti però chiaramente capito però 6.000 euro in una serata cioè ora voglio dire io capisco l'investimento però un po' troppo un po' troppo allora mentre comunque Yuka va avanti con questo suo piano di vita quindi mettere da parte i soldi dare i soldi a quello farlo diventare ricco e poi vissero per sempre insieme felici e contenti l'una non ha idea che questo sia il piano lui continua la sua vita tranquillo non ha nessun'idea di tutto questo allora è vero che in realtà i due avevano parlato di matrimonio ok infatti stavo dicendo ma mentre erano nel locale mentre lei stava pagando per avere una conversazione di queste qui che appunto creano la fantasia quindi lui non pensava che fosse vera questa cosa del matrimonio pensava che fosse parte della fantasia che vende al locale sì queste sono cose su cui non bisognerebbe tanto sono cose che non andrebbero prese così alla leggera secondo me no no però è così e arriviamo all'aprile del 2019 ok finalmente i due si accoppiano in un hotel perché in tutti i soldi che aveva speso lei ancora non avevano scopato tra di loro ce le scopava con gli altri per fare poi gli appuntamenti con lui pagando comunque cioè se non è questa una dimostrazione di amore o perlomeno di ossessione non so che cosa sia eh ma infatti è una storia di amore e ossessione comunque adesso analizziamo bene tutto allora dopo che finalmente fanno sesso tra l'altro non ho capito se lei ha pagato per il sesso o no perché secondo me no perché lei interpreta questa cosa come una conferma del loro grande amore e secondo me va bene che lei è fuori di testa però boh se lo avesse effettivamente pagato per la prestazione magari non si sarebbe fatta un viaggio mentale così grosso non lo so perché lei proprio dal momento in cui fanno sesso basta cioè è come se si sono fidanzati ufficialmente con l'anello e tutto e Yuka però è sicura che cioè comunque anche Luna l'ama perché se tu non ami una persona non fai sesso in quel modo lì capito quindi lei sa che lui l'ama lui non ha ancora capito di essere suo fidanzato che è un leggerissimo un leggerissimo misunderstanding eh sì appunto un piccolo misunderstanding ma scusa non non avrebbe fatto sesso in quel modo lì ma perché come l'hanno fatto questo non lo so Mark ah ok so che sono andati comunque in un love hotel quindi non il posto più romantico del mondo però sì 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 vabbè comunque la storia continua lei continua ad andare al club ma i due si vedono sempre 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 più spesso anche al di fuori del club quindi ok che lei è un amitomane però cioè non è proprio basato sul nulla la sua amitomania no perché stanno iniziando effettivamente a frequentarsi se non come fidanzati come amici ecco ok sì sì io in questa occasione qui magari avrei parlato avrei ribadito la cosa del matrimonio perché fuori dall'occhiale cioè ci vediamo come amici cioè parliamone bene lontano capiamo un attimo che cazzo stiamo facendo sì 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 lontano dalle bottiglie da 50.000 yen esatto esatto allora loro questi appuntamenti non sono i classici appuntamenti che fanno gli host al di fuori del locale perché Yuka non lo paga ok loro escono insieme per il piacere di stare insieme certo ogni volta che vanno al ristorante e prendono da bere paga sempre solo Yuka ok cioè Luna non ha mai il portafoglio perché per lui comunque è lavoro però dato che lui si sente un po' in colpa che lei sta spendendo così tanto per lui le vuole dare tipo l'extra senza rendersi conto che è la peggiore idea che potesse avere cioè lui è grato a lei perché l'ha aiutato veramente a scalare la vetta del suo locale della classifica del suo locale e la vede comunque come una persona che comunque gli sta simpatica no quindi è una roba strana lo so Marco no 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 ma è comprensibile la cosa cioè è proprio un mega misunderstanding sì 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 cioè lui si sente in colpa dice questa mi spende milioni di yen al club ci sta che poi il pomeriggio vado a prendere il gelato con lei senza farmi pagare per il mio tempo eh sì ma tra l'altro facendomi offrire il gelato non mi faccio pagare per il tempo però il gelato scusami lo paghi te esatto comunque ad un certo punto Yuka che continua a lavorare come escort a domicilio riesce magicamente a mettere da parte abbastanza soldi per affittare anche un appartamento proprio vicino al club di Luna lo affitta per lei e per Luna perché d'altronde loro si dovranno sposare tra un po' no e poi così è comodo così lui può andare a dormire lì quando ha finito nel locale che in realtà lui aveva il dormitorio nel locale quindi non l'ho capita sta cosa però probabilmente l'appartamento era più carino magari il dormitorio non avevano i bagni privati questi dettagli non li sono però come vuoi mettere un letto in un dormitorio con un appartamento di ben 10 metri quadrati dove vivere no ma magari aveva la stanza privata nel dormitorio però spesso queste stanze magari non hanno il bagno privato la cucina è comune insomma così invece è un appartamento lei lo affitta a nome solo suo cioè Luna non sa nulla Luna in generale in questa storia non sa mai nulla ok però lei a un certo punto dà a lui le chiavi quindi dice quando vuoi è anche casa tua e lui non si fa una domanda su questa cosa no 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 ma tra l'altro lei gli dà le chiavi senza niente dà le chiavi lui dice cosa sono e lei gli fa l'occhiolino come per dire tu lo sai lui si trova con sto mazzo di chiavi e non sa neanche di quale appartamento aprono poi così no vabbè allora Luna continua a essere grato per tutto questo però inizia a perplimersi ok inizia a farsi due domande a dire ma stai a vedere che questa ci crede che siamo insieme cioè stai a vedere che nonostante lei faccia il mio stesso lavoro alla fine però lei ha male interpretato quest'anno in cui io mi sono comportato come sto fidanzato vabbè ora secondo me Luna tra tutti i lavori che poteva scegliere di certo non poteva fare il detective perché non mi sembra uno che riesce a unire stracarino ma non sveglissimo no no non mi sembra uno che riesce a unire i puntini sai quelle cose lì no 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 a questo punto non ancora al punto che lui dice però lui si fa un esame di coscienza dice ma forse lo illusa un pochino quindi è meglio se faccio un passetto indietro però non voglio perderla come cliente no quindi un po' la devo comunque accontentare quindi in sostanza non cambia niente insomma cioè lui se lui magari non risponde subito al telefono non risponde ai messaggi cerca di allontanarsi ma poco questo allontanarsi ma poco però ha un risultato catastrofico perché Yuka più lo sente che si allontana più lei si appiccica ovviamente perché le viene il panico stai a vedere che non mi ama più come prima sta a vedere che ha trovato un altro cliente eh sì eh sì che in tutto questo poi comunque lui ha anche altri clienti a lei sta cosa sta iniziando a dar fastidio eh e poi dato che lei comunque lavora nel locale più o meno negli stessi orari in cui lavora anche anche Luna però poi ha il resto della giornata libera e quindi lei inizia a passare il resto della giornata a pedinarlo perfetto nulla può andare storta a questo punto no iniziano a spuntare tensioni tra i due perché lui appunto finora si era sempre comportato come se la relazione con Yuka fosse solo parte del suo lavoro da host quindi sempre super gentile super remissivo non metto mai in discussione quello che dici tu adesso però ormai si è creato anche un rapporto di confidenza tra i due e lei sta iniziando a esagerare perché sta veramente addosso e spesso lei lo attacca e quindi i due si ritrovano a litigare e Luna inizia a dire ok devo smollarla però non taglierà mai del tutto i rapporti non so ha paura di perdere la sua migliore cliente non lo so perché probabilmente prende sotto gamba la situazione semplicemente perché ricordiamoci che siamo a crime and comedy quindi sta situazione non si risolverà benissimo sì 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 esatto non è che vi stiamo raccontando la trama di un film a lieto fine oddio 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 questa puntata è più lieto fine di altre questo sì però però insomma però posso dire una cosa vuoi dire tutto quello che vuoi forse cioè ora si stanno frequentando da un anno vuoi per lavoro vuoi perché lui si sente in colpa penso che anche un minimo di affetto cioè da lui scaturisca verso sta ragazza cioè per quanto magari non è innamorato però un minimo di affetto cioè voglio dire ti affezioni cazzo a Cesare a Buonamici che la vedi tutte le sere a TG5 cioè è una persona che comunque frequenti quindi magari e che vuole il tuo bene comunque e che si sta facendo un culo a cappello di prete per farti cantare le canzoni tutte le sere cioè farti fare il concerto tutte le sere quindi nel senso un minimo penso che che lui cioè ci tenga a sta ragazza forse per quello lì che non tronca definitivamente ma certo cioè lui secondo me alla fine della fiera nonostante il suo lavoro discutibile però di base ha anche buone intenzioni cioè lui non vuole ferirla però non sa bene come comportarsi anche un ragazzo giovanissimo non sa come gestire queste cose comunque il 21 maggio sempre del 2019 Yuka riceve una telefonata da una sua amica a Pettegola ora io non so se fosse l'amica a Pettegola per i cazzi suoi o se Yuka dato che non poteva fare tutto lo stalking da sola ha iniziato a delegare lo stalking a sue amiche questo non lo so comunque ragazze che lavorano nel suo locale questa ragazza la chiama per dirle oh Yuka ma tu sai chi ho visto uscire da un love hotel con una donna Luna Kun ovviamente Yuka sbarella si mette subito a telefonare a Luna e quando lui risponde dice ascolta sono con una cliente perché poi lui è ingenuo in tutto questo sono con una cliente non ho tempo per parlare facciamo così passo da te nell'appartamento dopo il lavoro appena finisco di scoppare vabbè in teoria aveva finito il lavoro era nel locale comunque lui effettivamente mantiene questa promessa quindi di notte chiude il locale va nell'appartamento e quando arriva trova Yuka furiosa lui cerca di calmarla lui è molto perplesso da tutto questo perché in realtà lei stava iniziando ad attaccarsi ma non l'aveva mai vista lui non l'aveva mai vista così tanto arrabbiata e soprattutto non riusciva a spiegarsi perché lei fosse arrabbiata perché lei lo stava comunque aiutando a fare questa carriera in cui devi avere a che fare con altre donne quindi lui è super confuso con un po' un sempliciotto in queste cose sì sì in effetti a lui arrivano dei messaggi un po' contrastanti ma assolutamente assolutamente quindi lui cerca di calmarla e spiegare guarda che scopare con le tipe cioè è parte del mio lavoro no non te la devi prende no no anzi dovresti essere contenta che sto scoppando tanto ma poi ma poi fa un passo indietro perché dice una frase che io non so se lui dica la verità o meno ma non è rilevante dice comunque ma te la sei presa perché hai saputo che oggi sono andato nel love hotel ma guarda che siamo andati solo a chiacchierare quindi anche qua per calmarla gli ha detto sta cosa non lo so lei però però sta frase funziona perché lei si calma un attimo e dice va bene amore mio tu devi fare il tuo lavoro però mi devi promettere una cosa promettimi che mi avvertirai di ogni appuntamento al di fuori del club me lo dici prima così io sto tranquilla e lui promette cioè va bene prometto prometti lui promette Marco cantala tutta no che poi cioè Ambra era un po' la nostra idol sì 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 era la nostra Yandere no 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 Yandere adesso spiego che cosa è ci arriviamo nel momento giusto comunque la sera dopo la sera dopo questo scontro Luna rispetta la sua promessa perché telefona a Yuka e dice guarda che alla chiusura devo continuare la serata con una cliente Yuka dice ok grazie di avermelo detto però poi dopo torni qua io ti aspetto qua allora a quel punto lei prende il suo diario e inizia a scrivere come una pazza e scrive cose inquietanti dove lei dice che ha realizzato che forse il suo piano no di stare di sposarsi e vivere per sempre felici e contenti non si realizzerà a breve sicuramente forse lei si è un lusa un po' e quindi c'è un solo modo per coronare il loro sogno d'amore morire sì mi è sfuggito un passaggio perché lei sta pensando tipo a Romeo e Giulietta queste cose qua perché poi una delle cose che scrive sul diario è proprio questa frase voglio essere l'eroina di una tragedia ok allora ho capito il passaggio sì sì ma secondo me Romeo e Giulietta hanno fatto tanti di quei danni nel mondo ma porca miseria sì sì ma anche la mentalità giapponese sì sì a vedere gli anime veri i manga così anche quelli d'amore diciamo che sono dei piccoli drammi uno dietro l'altro sì non è che non c'è mai una storia serena non hanno l'abilità di prendere le cose con leggerezza ma questo è proprio un fattore culturale che hanno in comune anche i coreani e i cinesi questo scusate se ho offeso qualcuno ma ho diverse amiche giapponesi ne so abbastanza questa è una mia interpretazione che potrebbe essere sbagliata però non è un giudizio dato senza conoscere certo quindi vabbè comunque un'altra cosa che scrive è se lo uccido sarà un amore eterno prometto prometti esatto quindi a tardanotte come promesso arriva Luna a casa Yuka bravissima donna di casa gli ha fatto trovare il bagno pronto che anche questa è una cosa culturalmente significativa per i giapponesi perché comunque la moglie che ti fa trovare il bagno già pronto tu in quanto capofamiglia sei il primo a farti il bagno e poi con la stessa acqua si laveranno poi i figli in ordine dal più grande al più piccolo quindi i bambini piccoli giapponesi puzzano ma non è colpa loro eh certo poi poi dopo che si lava l'ultimo ci fanno gli uton no 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 quello no però vabbè è una fissa loro comunque li sparmiano sul sale comunque sul condimento comunque lei gli fa trovare il bagno pronto poi nella mia mente gliel'ha fatto trovare con gli oli essenziali i petali di fiori e le candele ma non penso comunque gli ha fatto trovare il bagno pronto e lui si fa il bagno si lava si asciuga poi va a letto e subito si addormenta perché comunque a questo punto sono quasi le 4 del mattino certo perché lui è stato al locale ha proseguito la serata con una cliente e poi è tornato subito a casa però comunque sono le 4 del mattino no ok si si poi cioè le endorfine saranno andate via con l'acqua calda immagino eh si si quindi quindi lui si addormenta subito allora Yuka si mette a fianco al letto e lo guarda lo osserva per un po' e dice ma che bello perché lui è lì che dorme tranquillo lei lo guarda con amore poi prende il telefono di Luna e si mette a guardargli le foto nel telefono e tra le foto vede che ci sono diverse immagini di lui con altre ragazze ora noi da malpensanti quali siamo abbiamo subito pensato foto porno no 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 però erano tipo andati a sushi insieme erano andati a prendere le crepe si era divertito con altre ragazze e c'è anche una foto dove lui pagava la cena quello avrebbe fatto incazzare anche me è proprio la foto di lui con la carta di credito che sorride si 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 lui con i soldi in mano no quella no allora Yuka appoggia il telefono da un ultimo sguardo a Luna si alza con calma va in cucina e prende il coltello più grosso che ha torna in camera si mette a cavalcione su Luna che stava dormendo e lo sveglia con una coltellata nella pancia lui intenso arriva dopo il cervello quindi non senti male quindi non senti male al momento subito ok comunque lui si sveglia in preda dolore confusione così però capisce che forse è il caso di scappare quindi cerca di scappare ma lei lo ferma e gli chiede tu mi ami lui a questo punto è in panico più totale ancora non ha capito cosa sta succedendo però giustamente risponde ma certo ma certo che ti amo ti amo tantissimo e lei risponde anch'io ti amo moriamo insieme e estrae il coltello che fino adesso era rimasto conficcato nella pancia del poverino togliendo il coltello qui c'è la scena da Finn Splatter inizia a schizzare il sangue dappertutto lui in panico però riesce ad avere la prontezza di fuggire riesce ad uscire dall'appartamento e si butta dentro all'ascensore preme il pulsante per scendere e si accascia comunque a terra l'ascensore perché ha una ferita molto molto grave lei allora dice prende il suo telefono prende le sigarette con calma scende le scale quando si apre l'ascensore no lei è già lì nella lobby l'ascensore più lento del mondo ma non magari abitava tipo secondo piano fatto in fretta comunque la cosa interessante è che lei prima di uscire dall'appartamento ha preso appunto le sigarette il telefono ma non il coltello cioè il piano era muoriamo insieme il coltello è rimasto nell'appartamento lei è nella lobby insieme a lui lui riesce ad uscire dall'ascensore ma poi stramazza ha perso troppo sangue stramazza terra appunto in questo lago di sangue allora Yuka e questa è l'immagine che si ha quando si pensa a Yuka Takaoka perché poi vabbè adesso vedremo comunque ci saranno fan art e robe di questo tipo lei si mette nella sua iconica posizione che mentre c'è il cadavere di luna a terra con la pozza di sangue che si allarga sotto lei si siede a terra lì a fianco si accende una sigaretta e telefona ad una sua amica e si mette a chiacchierare non dice che ha ammazzato si mette a chiacchierare ora nessuno parla mai di questa cosa ma io ho una domanda a che cazzo telefoni alle 4 di notte cioè lei ha chiamata un'amica per chiacchierare alle 4 di notte e magari si chiamava a me mi trova a sveglio no se mi chiami alle 4 di notte perché se mi chiami alle 2 sono ancora sveglia ma alle 4 penso che ti uccido vabbè comunque fa questa telefonata mentre lei al telefono una signora che abita nel condominio ha sentito dei rumori un po' sospetti ha sentito sicuramente qualche urla così e quindi è andata a vedere molto di soppiatto perché giustamente spaventata che cosa è successo e vede le due persone completamente ricoperte di sangue perché attenzione lui sta morendo di sanguato ma lei ha ricevuto tutti gli schizzi anche lei è coperta di sangue ed è lì tranquilla che fuma una sigaretta e parla al telefono quindi la signora vede questa scena e subito chiama la polizia la polizia arriva subito devo dire super efficiente in questo caso e quando arrivano la situazione è proprio la stessa c'è Yuka appunto seduta vicino a Luna che sta fumando una sigaretta e qui viene scattata la foto perché il poliziotto si avvicina a lei si abbassa per parlarle e per convincerla a seguirli in modo pacifico e quindi c'è proprio la foto di lei seduta con la sigaretta in un angolo c'è anche il cadavere e c'è il poliziotto ora questa foto fa il giro del Giappone ma anche del mondo e qua inizia la cosa che stavo accennando prima inizia il fenomeno della fan art dedicata a Yuka Takaoka che viene ribattezzata la real life Yandere che cos'è Yandere? letteralmente in giapponese significa malato d'amore ed è un personaggio ricorrente negli anime e anche nei manga ovviamente è un personaggio molto ricorrente in vari livelli nel senso che la Yandere non completamente fuori di testa compare in quasi tutti gli anime sì cioè la Mu la Mu è Yandere per com'è che si chiama lui non me l'ho rimosso per Ataru Moroboshi eccolo per lui però non cioè non è un livello estremo di Yandere ok lei perché un cartone lei lo fulmina ogni due per tre sì in effetti hai ragione forse è un livello anche relativamente alto no beh però Ataru Moroboshi poverino gliene capitano se fosse una persona vera sarebbe morto tipo guarda io ho fatto l'esempio però devo dire che non mi ricordo quasi nulla di La Mu però era per fare un esempio che tutti potessero potessero cogliere però in generale negli anime spesso c'è il personaggio femminile estremamente talmente innamorata del personaggio maschile che è disposta a fare qualsiasi follia anche in Death Note sì c'è il personaggio di Misa che infatti è anche il personaggio più buffo della serie perché spesso questa ossessione d'amore negli anime viene dipinta comunque come una cosa buffa mentre in realtà sarebbe una tragedia come abbiamo visto in questa storia perché la gente impazzisce esatto esatto e quindi appunto la Yandere è proprio questo personaggio ma addirittura c'era un videogioco che si chiamava o si chiama perché forse l'hanno fatto uscire un'altra versione Yandere Simulator dove tu sei una innamorata una studentessa di scuola superiore innamorata pazza di sto ragazzo e quindi se le altre ci parlano tu gli sfregi la faccia con le lamette queste cose qua e ovviamente dato che Yuka è anche abbastanza carina e questa foto ha fatto il giro del mondo si formano anche i fan club di Yuka Takaoka la vera Yandere e io qua dirò una cosa secondo me la stragrande maggioranza di questi fan non sono veramente fan è più una questione di goleardia fanno finta secondo me alcuni pazzi ci sono veramente perché poi quando si parla di Yuka così alcuni commenti sono cose del tipo ah vorrei che accoltellasse me anch'io voglio una donna che mi ami così tanto però secondo me alcuni scherzano è sempre una cosa di trolling secondo me non tutti ma io penso la maggior parte sì no Marco lo vedo più scettico no 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 sono d'accordo ma non per una questione di trolling quanto per una questione di personaggio famoso nel senso lei diventa un personaggio famoso al di là cioè al di là dell'atto nel senso loro penso che siano fan del personaggio no del sì più che del cioè nel senso non penso che sia gente che avvalli l'atto quanto la logica che ha portato a quell'atto lì non so se non so spiegato cioè perché troll magari sono proprio fan veri ah dici ma qualcuno non so sicuramente boh la sensazione che ho io quella però potrei potrei sbagliarmi no no vabbè comunque yuka yuka takauoka diventa un fenomeno infatti questa cosa è la giornata all'inizio della puntata però lo diciamo spesso nei casi giapponesi in realtà i casi giapponesi a cui ci arrivano abbastanza informazioni banalmente per fare una puntata di creme in comedy sono sempre quelli eclatanti perché sennò le altre cose difficilmente escono dal giappone questo invece fa veramente il giro del mondo quindi lei diventa istantaneamente famosa in tutto il mondo o almeno tra gli appassionati di anime di cultura giapponese questa notizia si diffonde subito e lei comunque viene arrestata sul momento ovviamente e abbiamo anche i filmati del suo arresto perché si c'è la famosa foto ma poi c'è anche il filmato di lei che viene caricata sulla macchina della polizia ed è tranquillissima lei ha proprio questo aspetto serafico tranquilla addirittura sorride quando è in macchina quindi vabbè quindi lei viene portata alla centrale di polizia perché ovviamente viene arrestata mentre Luna viene ovviamente portato d'urgenza in ospedale dove viene salvato per un pelo l'hanno salvato sì infatti vedi quando hai detto storia a Lietufine in realtà a Lietufine c'è perché lui non muore non muore ma veramente per poco cioè se la vicina di casa avesse aspettato più tempo a chiamare i soccorsi Luna sarebbe morto perché comunque è una ferita gravissima immagino ma anche se Yuka si fosse portato dietro il coltello penso che non sarebbe sopravvissuto ma infatti la cosa strana è questa cioè lei ha fatto tutta sta roba e poi si è seduta a fianco al cadavere ad aspettare aspettare che cosa non dovete morire insieme togliti la vita anche tu hai cambiato idea ok ma perché stai lì a guardarlo che dissangua cioè o lo finisci o chiami i soccorsi cioè è molto strana quella cosa e forse anche per questo che ha colpito molto il caso proprio allora in realtà lei ha provato a suicidarsi molto lentamente fumando le sigarette ah era quello il piano il piano era quello io mi tolgo la vita ma con con molta calma e quindi fumo ok ok comunque lui viene salvato per un pelo però resta in coma cinque giorni e resterà in ospedale più di un mese e poi ci vorrà molto tempo comunque per per riprendersi perché gli aveva proprio danneggiato gli organi interni cioè ebbè c'era quindi proprio una cosa molto molto grave mentre in ospedale lo vanno a trovare un sacco di colleghi e lui si sente molto si sente contento dice ma voi siete proprio la mia famiglia ma non solo questo perché grazie a questo incidente lui rientrerà in contatto con suo fratello e sua sorella con cui non si vedevano da anni perché poi erano stati separati in orfanatrofio così e quindi lui lui dirà beh caspita mi è successa una cosa terribile però vedo che ho tanto amore intorno a me o mi sono riconnesso con i miei fratelli quindi vedi che in un certo senso possiamo quasi chiamare parlare di lieto fine tra l'altro sembra una canzone di creamy cioè vedo tanto amore intorno a me ma creamy era un idol d'altronde esatto esatto il mondo più o meno si è quello e poi quando quando luna si riprende lui torna a lavorare come host però in un club più figo perché adesso lui è famoso e cambia il nome d'arte perché allora l'abbiamo chiamato luna fino adesso non è il suo nome di nascita è un nome d'arte il suo nome vero non è stato diffuso per tutta la questione però in realtà lui è famoso online quindi comunque secondo me se vai a cercare lo trovi anche il nome di nascita ma chi se ne frega perché lui usa il suo nome d'arte che adesso lui cambia lui prima era luna adesso è quasi morto è rinato e quindi diventa Phoenix Luna la luna fenice che risorge dalle sue ceneri quanta poesia hai visto lui c'è un sacco di seguito sui social ma è anche molto carino comunque per via dei danni agli organi interni soprattutto al fegato lui non può più bere alcol e quindi questo è un problema per la sua linea di lavoro ma in realtà questo host club più fighetto che l'ha assunto gli permetterà di non bere alcolici quindi dire tu comunque fai prendere le bottiglie alle clienti a te ti portiamo il succo di frutta bottiglie di gazzosa da 50.000 yen esatto ma il bello è che tutte le sue clienti lo sanno perché questa storia l'ha reso famoso appunto non con il suo nome vero però lui lavora con il suo nome d'arte e poi la sua faccia e sanno chi è e quindi non dà fastidio loro che lui non beva e poi gli altri gli altri host del locale si erano anche offerti di bere l'oro per lui però poi il locale ha detto no facciamo più semplice che già è complicato ok non vi ci mettete anche voi comunque appunto questa storia gli farà guadagnare tantissime nuove clienti perché tutte ragioneranno come se una è arrivata quasi ad ammazzarlo sarà proprio speciale e porca miseria lui è tipo il numero uno del suo nuovo club adesso per questa roba qui quindi mentre lui sta rinascendo dalle sue ceneri guadagnando più soldi che mai raggiungendo una fama anche positiva perché poi ha le fan e tutti gli vogliono bene Yuka deve affrontare il processo allora intanto non attende l'inizio del processo in custodia cautelare ma viene rilasciata quindi lei torna a casa come se non la fosse perché mica è pericolosa una così che tra l'altro abita nel locale cioè nel locale è vero che a questo punto l'uno è ancora in ospedale però ci sono un sacco di altri ragazzi vabbè no no ma infatti infatti poi è meglio lasciare in libertà questa gente no ma sì tanto è solo una che è arrestato alle 4 di notte completamente ricoperta di sangue che fumava una sigaretta vabbè comunque lei torna a casa come se non la fosse e si mette a studiare perché dice adesso ci vorranno un po' di mesi prima che inizia il processo perché mi sa che i tempi non sono tanto diversi da quelli italiani un po' più rapidi ma non di tanto e allora dice mentre aspetto il processo non è che posso stare qui con le mani in mano mi metto a studiare e si mette a studiare scienze infermieristiche e dichiara pubblicamente questa esperienza mi ha fatto capire che io di lavoro voglio curare le persone vabbè dopo averle accoltellate immagino lo so comunque lei si mette a studiare e rimette la sua vita a posto e poi scrive una lunga 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 lettere di scuse a luna dove praticamente continua a dire scusa mi dispiace sono veramente triste di averti accoltellato scusami 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 e poi scusa cioè tipo così per un sacco di pagine e e basta però però poi allora da quello che ho letto io non ho letto di ordini restrittivi nei suoi confronti che mi lascia sconvolta però lei non si è avvicinata all'ospedale né niente quindi ok il 3 dicembre del 2019 inizia finalmente il processo i fan di Yuka ovviamente hanno fatto una raccolta fondi online per pagarle le spese legali e quindi lei raccoglie circa 4.000 euro più o meno che non sono tantissime però insomma hanno tirato su 4.000 euro per una colletta per una che ha coltellato uno certo non mi sembra poco qui inizia il processo e al processo ovviamente c'è anche Phoenix Luna che adesso si è ripreso completamente lui è già in aula ok quando lei viene portata in aula dalle guardie lui le sorride le fa un sorriso di incoraggiamento perché comunque lui il suo secondo nome è Mixed Messages cioè sì messaggi confusionari comunque lui poi ovviamente deve fornire la sua testimonianza perché lui è l'unica vittima cioè non è che è un caso dove ci sono altre persone quindi fornisce la sua testimonianza e lui mentre testimonia dice di averla perdonata completamente e chiede al giudice per favore di non essere troppo severo con la sentenza perché dice io qui in quest'aula di tribunale devo assumermi la mia parte della colpa perché io so di averla illusa e io spero che Yuka potrà avere una vita felice senza di me alla fine dice però precisiamo questa cosa che senza di me e poi dice io ovviamente ho subito un attacco insomma mi hanno accoltellato ok però devo anche ringraziare lei di avermi reso ricco e famoso e mi sento anche in colpa perché comunque lei quando mi aiutava a fare la scalata nel mio locale si è indebitata per colpa mia io non lo sapevo che lei si era dovuta prostituire per dare i soldi a me quindi mi sento molto in colpa giudice sia buono allora lui è molto onesto ma lui è una roba che sembra anche lui un personaggio di un anime perché adesso magari non si è comportato benissimo ma secondo me prima dell'accoltellamento ovviamente ma secondo me per una questione di ingenuità più che altro e a sto punto sì e poi boh adesso per quanto il ragionamento è giusto perché lei ti ha reso famoso e tutto il resto ti ha comunque accoltellato no è una cosa che puoi pure non perdonare no nessuno ti farebbe una colpa e invece lui addirittura chiede di non dare una pena severa assolutamente allora il pensiero che lui sembri uscito da un anime e un anime lo penso anch'io no allora il allora è probabile che lui veramente prima nel senso si sia comportato in modo tra virgolette ingenuo o non abbia voluto vedere le cose stiamo parlando di ventenne comunque sì 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 è anche vero che lui comunque ha subito un'esperienza di premorte sì quindi magari questa cosa qua ti fa mettere anche le cose in prospettiva e ti fa capire cosa non andava della tua vita prima eccetera e quindi rivedendo tutto in prospettiva magari ha fatto anche dei ragionamenti su se stesso e ha detto beh effettivamente avrei dovuto non incentivare questa sua follia sì così quindi magari è frutto anche di una rivalutazione di quello che ha fatto prima magari prima c'era un po' più di malizia ha detto recupero quella malizia che ha portato a questa tragedia non facendola incriminare più di tanto nel senso è possibile anche questo ma sì ma infatti non capisco se è la persona più buona e matura del mondo o se è scemo cioè non riesco a capire comunque dopo questa testimonianza meravigliosa che io non penso ci sia un altro caso di una persona che al processo per quello che l'ha coltellato ne parli bene comunque il giudice prende in considerazione la richiesta di Luna e quindi Yucatakaoka per tentato omicidio viene condannata a tre anni e mezzo poco è un po' poco in questo caso tre anni e mezzo più però attenzione ordine di allontanamento da tutto il red light district da tutto il distretto a luci rosse e deve rimborsare le spese ospedaliere di Phoenix Luna giusto solo che Marco ragioniamo un secondo 2019 tre anni e mezzo è uscita è uscita è uscita nel 2023 mi sembra ottobre 2023 e lei appena uscita si è aperta dei nuovi social quindi lei è molto è molto attiva sui social lei ha aperto proprio degli account nuovi non la trovate come Yucatakaoka però se volete vi dico come la trovate perché io sono qui per voi si la trovate come Clara Campi no però aggiungete Clara Campi no allora lei praticamente su tutti i social quindi su ex su Instagram e su YouTube è Uyu Peko Chan Uyu Peko Chan ok e poi però questi non sono i suoi social principali il suo social principale è Big O Live che è un social giapponese che noi non abbiamo da quello che ho visto io mi sembra quasi identico a TikTok ma molto focalizzato sulla live infatti Big O Live e quindi lei fa proprio le live dove dove interagisce con le persone che scrivono i commenti e allora lei in questi live in questi contenuti non parla del delitto ovviamente fa le canzoncine poi ho visto che su YouTube mette delle robe tipo di qualche videogioco che non conosco delle robe comunque da nerdoni quasi così e anche fai tutorial di trucco tutorial di make up c'è un video di tipo 18 minuti su YouTube di lei che si trucca e basta va bene e di base fa le canzoncine le cose vestite da gatto quelle robe lì però appunto come dicevo fa molti live probabilmente anche sta guadagnando anche dai live su quel social su quel social lì e quindi ovviamente anche se lei non parla di queste cose i commenti parlano solo di quello ne parlano i commenti sono tutte cose come tipo ti prego pugnalami vorrei morire per mano tua ti amo uccidimi e tutte queste cose qua commenti tutti estasiati perché questo suo ritorno sui social è stato accolto molto calorosamente soprattutto da uomini un po' pervertiti possiamo intuire e qualche ragazza che dice voglio essere come te quindi partiamo è il ragazzo che subito brivido freddo lungo la schiena minchia eh vabbè però lei viene vista come un personaggio di un anime praticamente la real life di Anderet eh sì è quello che dicevo prima cioè è più il personaggio cioè non è neanche la persona o il gesto che ha fatto è il personaggio è è la leggenda che si è la lure che si è creato intorno alla persona più che la persona in sé quindi per quello lì dicevo nel senso che magari sì ci sono anche i troll che scherzano sulla cosa però eh sì vabbè comunque però vabbè comunque vabbè tutti i video sono in giapponese quindi se volete andatevi a guardare però sappiate che sono tutti in giapponese sono tutti pensati comunque per un pubblico giapponese i commenti sono in giapponese ogni tanto c'è qualcosa in inglese ma di base sì sì sono giapponesi e comunque molti le chiedono di avere più presenza sui social per favore ricomincia a fare cosplay quindi vedremo dove la vita porterà Yuka a Takaoka io spero che l'ordine di allontanamento per il distretto luci rosse sia vita natural durante e che non entri mai più in un host club perché insomma magari hai imparato la lezione però meglio essere sicuri piuttosto che pentiti eh sì sì speriamo anche che si innamori di qualcuno che la ricambi come vuole lei sì e che comunque non arriviamo a questi eccessi lo stesso no no ma infatti io adesso andrò sotto i suoi social a scrivere offrimi una cena voglio prendere il gelato con te vai Marco subito vado vado finchè la rovino altro che 6.000 euro eh non so questa è una storia che ci hanno richiesto in tantissimi però boh alla fine non è che succeda più di tanto perché poi oh non c'è neanche un morto Marco festeggiamo questo succede tipo una volta all'anno in Kram and Comedy sì 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 c'è quasi un morto quasi sì no lui ci è andato vicinissimo eh sì sì e quindi questa qui è una puntata di quasi Kram and Comedy vabbè il crime c'è stato perché comunque coltellare una persona allo stomaco secondo me è crimine direi che sì può può essere sei insoddisfatto volevi la morte sì sì allora facciamo un patto la prossima storia che racconto io un sacco di morti va bene oh bene perfetto perfetto possibilmente più splatter possibile se ci metti incessi i gattini morti così tutto tutto dentro cazzo l'incesto non ce l'ho ma il gattino morto mi sa che comparirà però vabbè non spoileriamo non spoileriamo non spoileriamo niente se volete farci sapere cosa ne pensate di questa storia ovviamente ci sono i commenti su Spotify poi ci sono i nostri social che sono cremencomedy.podcast su Instagram se no c'è Telegram che è cremencomedy group se no c'è il sito cremencomedy.it e niente ci vediamo penso fra qualche giorno a Firenze per chi verrà a Firenze a vedere le live poi ci sarà a Milano il 19 marzo ci sono ancora qualche biglietto se volete prenderlo così e poi il 28 marzo siamo a Mestre però i biglietti sono esauriti in tempo record quindi grazie mille grazie mille per tutto l'affetto che ci state dimostrando anche i patron ovviamente ma non solo non solo loro tutti e quindi niente ci sentiamo settimana prossima per una nuova puntatona di cremencomedy e poi tornerà anche penso Vite Scomode adesso beh sì certo ci abbiamo un po' un po' le dati sballate in generale il giovedì di solito c'è Vite Scomode poi tra una vita e l'altra c'è una pausa di una settimana però comunque il giovedì c'è Vite Scomode seguiteci su Spotify sì lo so seguiteci su Spotify o sulle vostre piattaforme preferite mettete votate metteteci le 5 stelline se ascoltate su una piattaforma che permette di votare e se ascoltate su Apple Podcast oltre alle 5 stelline potete lasciare anche una recensione stessa cosa su Audible tutto questo ci aiuta tantissimo aiutateci a far sì che nuove persone scoprano questo podcast così da crescere e così da continuare a farvi compagnia esatto per il momento vi ringraziamo vi abbracciamo e vi diamo appuntamento settimana prossima arigato arigato gozaimasu sayonara sayonara su Audible su Audible su Audible su Audible Grazie a tutti.